Ministro, la tragedia di Firenze accende i riflettori sulle occupazioni abusive. Qual è la situazione in Italia? È una situazione di una certa complessità. Non tutte le situazioni che abbiamo sono uguali. Quelle più problematiche sono quelle in cui ci sono caratteristiche di risidenzialità, persone che abitano dentro e sono assistite dal provvedimento di sequestro preventivo dell'autore da giudiziare, per i quali ci ripromettiamo di agire al più presto. Ma state pensando a un piano di intervento? Guardi, noi intanto dall'inizio del mio mandato ho diramato direttive ai prefetti delle principali città nei quali avvengono questi fenomeni, di fare in modo che quelle di nuova verificazione venissero scongiurate subito o liberate nell'immediatezza. E questo è successo. Dopodiché intendo rinnovare l'attenzione di tutti i prefetti, di tutte le sedi, per fare una ricognizione, per vedere quale formule di intervento più efficaci si possono mettere in campo. Ma a Firenze c'è stato un cortocircuito tra le istituzioni locali e la Procura, perché non si riesce a intervenire? Quali sono i problemi? No, a Firenze c'è un ottimo livello di collaborazione interistituzionale. Era una situazione un po' complessa e che richiedeva la necessità di trovare soluzioni alternative per le persone che stavano lì. Ci voleva del tempo, tempi che si sono rivelati drammaticamente e tragicamente inadeguati proprio a causa della vicenda della bambina. Quindi dovremo fare sicuramente di più.